Buonasera a tutti e benvenuti sia ai presenti che a chi ci segue online a questo Giovedì dei musei in regime appunto misto. Siamo e sono molto contenta di affrontare un argomento importante per questa istituzione che è appunto la fototeca e tutto un progetto legato alla fototeca storica dei musei vaticani. Abbiamo voluto chiamare con parla di Gian Maria e con anche Luca della Giovan Paola, questo e Chiara Fornaciari che sono qui accanto a me, questa Giovedì dei musei, la fototeca dei musei vaticani, tecnologie e conservazione a servizio della conoscenza, per dare in qualche modo così sintetizzare quello che è il progetto che presentiamo stasera, che è un progetto importante, innovativo, che dà conto di una collezione importante che generalmente appunto non è così conosciuta come la fototeca storica dei musei, inserita nella tecnologia che questi musei ormai affrontano a più livelli negli ultimi anni, ma soprattutto inserita anche in un piano di conservazione e di tutela di questi materiali che invece è una cifra che ormai da tempo appunto questi musei affrontano. E forse si può mandare l'immagine. Nel 1883 Papa Leone XIII Pecci commissionò al pittore romano Domenico Torti un dipinto raffigurante l'allegoria delle arti, quale ornamento appunto della volta della Galleria dei Candelabri all'interno dei musei vaticani nel corridore superiore appunto dei musei. Negli anni della questione romana appunto il pontefice si dedicava ai suoi musei e alla divulgazione della devozione cristiana attraverso le diverse forme di espressione artistica. Torti realizzò, la vedete dietro di me, la vedete come immagine, un'allegoria figurata dove la fede benedice, sovraintende e protegge le arti che le rendono giustamente dovutamente omaggio. Pittura, scultura, architettura considerate le arti maggiori ma se guardate bene forse possiamo andare alla successiva. Oltre alle arti maggiori anche gli altri modi di esprimere l'invisibile sono raffigurati in questo dipinto. L'arte tessile, quella dell'intaglio e incredibilmente quella fotografica rappresentata appunto come veramente la prima rappresentazione della macchina fotografica nel modello Daguer Giroux del 1839. Non è un caso e questo è importante sottolinearlo che a pochi anni dalla sua invenzione grazie a un pontefice come Leone XIII che è il primo del quale abbiamo tra l'altro una ripresa filmata del 1898 nella quale fa un atto di benedizione quindi benedice in un video da una carrozza in movimento nei giardini vaticani, il pittore ha voluto immortalare fra le diverse arti appunto anche quella fotografica. Queste testimonianze sono ed è un fortissimo segnale dell'interesse del papato che ha sempre riservato alla divulgazione artistica nelle sue forme più diverse in special modo a quelle che in qualche modo traducevano icone ed emblemi universali dell'arte e della fede quindi veramente dei preziosi strumenti di evangelizzazione ma sono anche gli indizi che mostrano l'attenzione pontificia verso l'innovazione, l'impiego di mezzi espressivi sempre all'avanguardia, l'utilizzo appunto sia della stampa di traduzione pensiamo a Raffaello, a Marco Antonio Remondi nella Roma di Rinascimentale che portò però nel Settecento alla formazione della calcografia camerale appunto nell'ambito della curia pontificia ma anche a tutte le campagne poi fotografiche di metà ottocento, metà e fino ottocento di cui parleremo e ci parlerà anche Paola di Giammeria fra poco ma anche alla radio vaticana sotto più undicesimo pensata alla potenza appunto della comunicazione che paparatti volle chiamando Guglielmo Marconi appunto a impiantare la radio vaticana agli inizi degli anni 30 al 900 dentro appunto lo stato vaticano e quindi ma anche se poi andando oltre anche l'attenzione verso la settima arte sfociata poi nella creazione della filmoteca vaticana e del centro televisivo vaticano sotto Giovanni Paolo II. La fotografia, fotografia che ha veramente un interesse, Paola di Giammeria ce lo dirà fra poco ma io brevemente appunto voglio soltanto citare alcune delle grandi fototeche che sono in qualche modo legate al mondo vaticano, per tanti anni mi sono occupata della fototeca della biblioteca apostolica vaticana cioè di quella raccolta fotografica che unita agli indirizzi papali raccoglie più di 200-250 mila immagini provenienti da tutto il mondo con complessità di collezioni che chiaramente si vanno a raccogliere ma che in qualche modo veramente costituisce uno dei patrimoni insieme a quello dell'osservatore romano con tutto il fondo giordani a quello di propaganda fide con tante immagini che vengono dai luoghi più lontani del nostro pianeta ma anche a tante tante altre raccolte fotografiche dei dicasteri diversi della Santa Sede costituiscono veramente un fondo molto importante oggetto, Paola di Giammeria lo sa bene, di convegni ai quali abbiamo tutte e due partecipato negli anni. Un patrimonio di immagini che oggi vogliamo focalizzare sulla fototeca invece di questi musei voluta all'indomani diciamo come struttura all'indomani della creazione dello Stato della città del Vaticano quindi all'indomani dell'11 febbraio del 1929 ma soprattutto stabilizzata nelle forme attuali attraverso la costruzione della cosiddetta cosiddetto edificio della Pinacoteca voluto da Piondicesimo grazie al progetto ancora solido e imponente di Luca Beltrami che insieme a Bartolomeo Nogara, Biagio Biagetti volle appunto non soltanto la collezione di dipinti mobili nel piano diciamo nel piano di base ma i laboratori di restauro nella parte che si trova appunto nel piano diciamo sul giardino sul giardino quadrato ma soprattutto volle gli uffici di direzione e tutto quello che serviva a in qualche modo a gestire un museo importante come erano i musei vaticani aperti al mondo grazie appunto alla volontà di Piondicesimo attraverso appunto non soltanto l'ufficio di direzione ma attraverso la biblioteca, l'archivio storico, l'inventario generale e una fototeca questa fototeca che è andata evolvendosi nel corso di questi ultimi anni chiaramente grazie a una curatela appunto attenta, Paola di Gian Maria appunto lo racconterà a breve, è andata arricchendosi di fondi il fondo Moscioni è uno dei più rilevanti ma ce ne sono tanti altri così variegata e mi piace anche stasera annunciare che in occasione appunto della presentazione di un progetto ben più complesso c'è anche un'importante nuova acquisizione di questa fototeca che è quella del fondo Andrea Busi di Vici, un architetto romano, qui saluto e ringrazio alcune delle sue eredi che hanno voluto appunto donare questa fototeca a complemento proprio perché Andrea Busi di Vici è stato un architetto ma anche uno storico dell'arte interessato soprattutto di quell'ambiente con pagine che era la pittura romana del 6, 7, 800 molto legata alle committenze papali e quindi assolutamente appunto confrontandoci con Paola di Gian Maria abbiamo capito che andava a mecciare perfettamente con un termine così però ecco si integrava in qualche modo, poteva essere complementare alla fototeca esistente all'interno della nostra istituzione quindi è un bel momento, abbiamo ricordato la fototeca Zeri nel giovedì dei musei del 4 novembre scorso e anche il lascito Zeri importante, ecco Andrea Busi di Vici e Federico Zeri in qualche modo si possono considerare delle figure assimilabili per alcuni versi sicuramente le loro fototeche si assomigliano, sappiamo che quella di Zeri è nella fondazione Zeri di Bologna appunto invece acquisire alla nostra fototeca quella di Andrea Busi di Vici è sicuramente un arricchimento per la nostra istituzione il progetto appunto, quello che invece vorriamo e intendiamo e lascio presto la parola a chi entrerà nel dettaglio è un progetto molto articolato, un progetto che già ormai da diversi anni ha visto la valorizzazione di questo fondo fotografico non soltanto attraverso una sua nuova sistemazione, abbiamo fatto dei lavori, spostato la biblioteca, dato più spazio alla fototeca ma soprattutto abbiamo iniziato con una volontà e attenzione alle tecnologie e soprattutto alla condivisione che è una delle nostre missioni, è quella di condividerlo attraverso il nostro catalogo online e quindi l'intera raccolta è stata, se vogliamo, è stata oggetto appunto di un progetto specifico coordinato da Palo di Gian Maria ma con anche i collaboratori del suo reparto Francesca Martuscello che è qui accanto a me e Cristina Gennaccari che hanno in sinergia meravigliosa collaborato con il nostro ufficio di supporto tecnologico quindi diretto da Luca della Giovan Paola con Giovanni Benigni e con tanti altri collaboratori che hanno sviluppato uno specifico prodotto informatico che fosse in grado di inserirsi in un progetto molto più ampio di cui adesso ci esporrà anche Luca della Giovan Paola ma che permette appunto di arrivare immediatamente alla conoscenza di questo ricchissimo fondo e abbiamo detto, ho detto in apertura che fototeca tecnologia è conservazione perché non c'è dubbio che queste enorme mole di lastre fotografiche che sono state digitalizzate, sono state prima ancora di essere digitalizzate e quindi poi essere messe online e credo che siamo online da oggi, vero? O da ieri? Da ieri, dal 24 di novembre che rimane veramente una data importante che si va a unire anche questo importante reparto al catalogo online dei nostri reparti, delle nostre collezioni e delle opere esposte che ormai è già online da un po' di tempo ma ecco, anche questa parte ha sicuramente avuto necessità di essere preservata meglio non soltanto per essere digitalizzato e qui devo dire che sono grata a Chiara Fornaciari, a Flavia Serena di Lapigio e anche a Cristina De Medici e tutti i collaboratori, anche staggisti e altri collaboratori del Laboratorio Restauro Carta dei Musei Vaticani che hanno faticosamente, devo dire, e con passione e con comunque un'operazione che è anche comunque lunga, noiosa, ripetitiva hanno messo nelle condizioni di queste lastre fotografiche migliaia di lastre fotografiche di essere, di poter essere digitalizzate nel miglior modo possibile e poi le hanno preservate per poi, speriamo, non essere più toccate se non, appunto, per ragioni diverse ma non certo per la fruizione diretta che attraverso la digitalizzazione arriverà e speriamo che arriverà sempre di più quindi un mezzo assolutamente importante di conoscenza di questo importante settore è un po' più nascosto rispetto chiaramente agli altri delle nostre collezioni ma un mezzo e un progetto che veramente è il sinonimo di questi musei di cosa siamo noi, Musei Vaticani del XXI secolo frutto di sinergie diverse, di competenze diverse che lavorano assolutamente per la missione dei musei che è quella di preservare ma soprattutto condividere queste collezioni universali dell'arte che abbiamo ricevuto dal passato e che sentiamo come missione di condividerle alle generazioni future e questo sicuramente è un mezzo la pandemia ce l'ha insegnato bene ma questo è anche uno strumento di ricerca e di approfondimento delle nostre collezioni che appunto oggi mette una pietra ancora più solida in questa attività così importante lascerei allora subito la parola a Luca della Giovan Paola per la sua esposizione Buonasera, intanto volevo ringraziare io inizio subito dai ringraziamenti perché questo progetto non sarebbe stato possibile essere realizzato se non ci fosse stato la collaborazione non soltanto nei musei vaticani da parte di tutti quanti i settori i reparti interessati, i laboratori interessati ma da parte della direzione delle telecomunicazioni che ci ha consentito di realizzare una solida infrastruttura hardware e una solida infrastruttura di network per poter esporre tutto quanto il lavoro che poi dopo è stato fatto dai nostri colleghi soprattutto il merito di questa attività va come già detto dalla dottoressa Iatta a Giovanni Benigni e a Giovanni Di Giorgio che si è occupato di tutta quanta la parte di infrastruttura sistemistica che sono le cose che si vedono di meno chi fa il nostro lavoro a volte sa che ci si accorge di alcune cose soltanto quando non funzionano in realtà per farle funzionare è sempre abbastanza complesso da dove parte questa idea di nuova architettura digitale dei musei vaticani ognuno di noi che lavora all'interno dei musei ha un proprio punto di vista cioè vede il centro del proprio lavoro che è costituito dalle opere d'arte che sono ospitate nei musei in una certa maniera può esserci il punto di vista del visitatore il punto di vista del restauratore il punto di vista di chi si occupa della sicurezza all'interno dei musei il punto di vista di chi deve catalogare le opere all'interno dei musei e qui anche volevo ringraziare l'ufficio di inventario generale e soprattutto Alessandro Uncini perché noi per poter iniziare e portare avanti questo lavoro ci siamo basati pesantemente sul grosso lavoro che era stato fatto negli anni precedenti di catalogazione per quanto riguarda le opere mobili c'è poi dopo il punto di vista dell'archivio storico c'è un punto di vista per esempio dell'editoria c'è un punto di vista per chi si occupa delle mostre c'è un punto di vista infine per chi si occupa della fototeca tutto questo era stato fino a qualche anno fa gestito attraverso sistemi informatici etereogenei quindi diversi a volte non connessi tra loro con informazioni formati e anche metodi di inserimento delle informazioni differenti noi invece abbiamo approcciato il discorso relativamente alla conservazione digitale che secondo l'UNESCO è quell'insieme di processi volti a garantire la continua accessibilità dei materiali digitali noi oggigiorno produciamo una quantità enorme di materiali digitali basta pensare alle fotografie che uno ha all'interno del proprio cellulare ai documenti nel proprio computer agli allegati della posta elettronica tutta quanto una serie di documenti digitali che sono la corrispondenza dei vecchi documenti cartacei ma questi vecchi documenti cartacei come sanno bene gli archivisti sono spesso molto importanti quindi nella stessa maniera dobbiamo incominciare ad affrontare dando la stessa importanza anche documenti digitali questo significa applicare degli standard che prolunghino la vita del materiale mettere tutto quanto questo materiale digitale in un luogo sicuro perché analogamente a quanto avviene con le opere d'arte anche il dato digitale è un dato che va protetto abbiamo visto purtroppo durante la pandemia cosa vuol dire perdere le funzionalità di un sistema digitale come è accaduto per esempio al sistema sanitario della regione Lazio cioè perdere quelle funzionalità ha creato un grossissimo disagio a tantissime persone bisogna controllare il materiale utilizzando i metadati cioè delle informazioni strutturate che servono per facilitare l'accesso a questi dati bisogna proteggere l'integrità e l'identità del dato scegliere dei mezzi per permettere l'adeguamento di fronte ai cambiamenti tecnologici ognuno di noi oramai ha iniziato la propria attività lavorativa con determinati strumenti qualcuno di noi ancora prima degli attuali personal computer con sistemi a terminale ecco garantire la trasportabilità dei dati da sistemi differenti nel corso degli anni è uno dei compiti della conservazione digitale bisogna gestire quindi questi programmi di conservazione per raggiungere degli obiettivi in maniera tempestiva quindi essere pronti ad affrontare il cambiamento tecnologico potendo garantire il trasferimento delle informazioni digitali da un formato ad un altro noi per esempio abbiamo fatto esperienze che ai primi fa il pdf che è un formato di file universalmente conosciuto ma i file pdf generati intorno agli anni 95 96 incominciano ad avere dei problemi per poter essere aperti cioè gli attuali lettori pdf non riconoscono più questi file quindi bisogna gestire questi programmi di conservazione di trasformazione del dato digitale adeguandolo ai nuovi formati e ai nuovi visualizzatori che mano a mano la tecnologia ci mette a disposizione bisogna selezionare quale materiale conservare questo è un importante lavoro come dicevo prima gli archivisti una volta selezionavano il materiale cartaceo da dover conservare anche oggi bisogna arrivare a selezionare il materiale digitale perché perché quando un nostro fotografo fa una campagna fotografica produce migliaia di fotografie ma di queste migliaia di fotografie noi dobbiamo arrivare a selezionare soltanto quelle che sono di nostro interesse schiartando quelle sfocate quelle venute male quelle ripetute quelle che hanno una cattiva luce e così via quindi il nostro progetto che abbiamo condotto è stato innanzitutto un progetto di digital curation cioè di curatela del materiale digitale e per fare questo abbiamo dovuto creare questo nuovo ambiente abbiamo voluto dare un unico punto di accesso per tutti quanti gli archivi digitali che erano presenti all'interno dei musei vaticani andando a raccoglierli e a metterli tutti quanti all'interno di un unico punto di accesso abbiamo creato una struttura dei dati standardizzata utilizzando dei metadati che sono internazionalmente riconosciuti un po' come accade nella catalogazione libraria abbiamo utilizzato tutti quanti dei formati delle informazioni che in qualsiasi parte del mondo sono riconosciuti abbiamo creato tutta quanta nuova infrastruttura hardware e software per poter conservare a lungo termine il dato digitale abbiamo costruito una parte di front end per il pubblico per consentire ai nostri visitatori agli internauti di poter accedere al dato che metteremo che mettiamo che stiamo già mettendo a disposizione sul nostro catalogo online abbiamo costruito quello che tecnicamente si chiama un digital asset management system cioè un unico punto di conservazione per tutti quanti i media digitali noi oggi realizziamo video che mettiamo su Instagram che mettiamo su YouTube tutte quante le opere che parlano che sono di cui si parla in questi video sono raccordate all'interno di questo catalogo cosa vuol dire la conservazione di lunga durata questa è una slide che mi piace mostrare perché spiega bene come dico sempre io invidio gli epigrafisti perché voi prendete un'epigrafi la escavate dopo 3.000 anni date una spolverata all'epigrafe e potete leggere l'informazione contenuta all'interno dell'epigrafe la volete conservare la potreste rimettere sottoterra e tra altri 3.000 anni qualcun altro farà la stessa operazione provate a fare la stessa cosa con un floppy disk e ho messo qui un floppy disk sono i primi supporti digitali con i quali noi ci siamo dovuti confrontare un floppy disk banalmente dopo 5-7 anni si smagnetizza perde le informazioni al suo interno quindi è molto importante garantire il processo di trasporto del dato tra un supporto da un supporto a un supporto più affidabile ma che soprattutto questo supporto possa durare nel tempo stiamo però parlando di tecnologia la tecnologia è una cosa che varia che cambia con una rapidità fulminante però che cos'è che abbiamo voluto costruire abbiamo voluto costruire all'interno dei musei radicani nell'ambito del progetto di sicurezza e servizi dei musei è stato costituito un data center che ospita tutti quanti i nostri server che ci occorrono per erogare servizi ai visitatori che è proprio conservato all'interno è una stanza che abbiamo letteralmente rubata all'interno della sezione epigrafica è un magnifico bunker di cemento armato all'interno del quale abbiamo costruito questa server pharma con un sistema di conservazione di dati di lunga durata qual è il sistema in questo momento che ci dà la maggiore affidabilità nel tempo è ancora il sistema nastro cioè il sistema nastro ci è garantito per almeno 20 anni capite bene come 20 anni sia un range temporale così breve rispetto a quello che è l'arco temporale di conservazione di un'opera cioè un epigrafe come dicevo prima si conserva per migliaia di anni un dato digitale no abbiamo quindi costruito questa data center con questi strumenti di conservazione di lunga durata che sono accessibili all'interno della rete del governatorato dello stato città del vaticano e che sono anche stati resi disponibili all'esterno per quanto riguarda il web perché questa nuova architettura digitale appunto perché l'abbiamo chiamato nuova architettura digitale per avere un unico punto di accesso a tutte quante le informazioni non avere più sistemi sparsi eterogeniche oppure dati che stiamo dovuti andare a recuperare da pc di colleghi che stanno andando in pensione abbiamo sostituito un'architettura web based a un'architettura di tipo client server cioè un'architettura di tipo internet a un'architettura di tipo pc il personal computer oggi non è non viene più utilizzato per l'elaborazione ma è utilizzato per l'accesso al dato informatizzato abbiamo cambiato totalmente il tipo di approccio sul software passando da dei software proprietari realizzati magari anche internamente a dei software open source che sono supportati da una vasta schiera di utilizzatori nel mondo con gruppi di lavoro che continuamente lavorano su questi progetti abbiamo cambiato anche la tipologia di database abbiamo cambiato totalmente l'approccio dell'hardware passando da sistemi fisici a sistemi virtualizzati che sono sempre si ospitati all'interno di sistemi fisici ma con il meccanismo della virtualizzazione ci consentono di poterli letteralmente fotografare mantenere un'istantanea memorizzarla in caso di problemi andare a ripristinare nel più breve tempo possibile tutti quanti questi dati abbiamo cambiato il tipo di autenticazione e abbiamo effettuato questo passaggio di conservazione di lungo periodo utilizzando un sistema che si chiama Collective Access che appunto è un prodotto open source gestisce file di qualsiasi tipo e dimensione è stato convalidato dal servizio dei musei di Francia e soltanto in Italia è utilizzato da più di 177 organizzazioni le funzionalità non voglio dilungarmi più di tanto ma sono molto molto sofisticate soprattutto per quanto riguarda la ricerca del dato partendo con un approccio di tipo drill down cioè da un ampio set di risultati andando via 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 a cercare ciò che è di proprio interesse tutte quante le informazioni sono poi dopo registrate all'interno di log per cui se per esempio viene scaricato un file sappiamo chi ha scaricato il file e giustamente questa persona aveva i diritti per poter scaricare questo file in questo momento cosa abbiamo fatto convergere all'interno del sistema l'inventario l'archivio storico la fototeca l'ufficio immagine diritti abbiamo tantissime immagini gigapixel abbiamo incominciato a mettere dentro audio abbiamo più di 3000 descrizioni audio delle nostre opere che sono le descrizioni che stanno all'interno delle nostre audio guide stiamo mettendo dentro il materiale del gabinetto ricerca scientifiche le schede epigrafiche abbiamo messo stiamo cominciando a rifettuare la catalogazione dei beni immobili andremo a inserire anche gli oggetti della biblioteca cioè i nostri libri per creare le giuste corrispondenze bibliografiche tra le opere e i libri in cui sono citati queste opere quindi la consistenza è molto è molto ampia abbiamo come dicevo realizzato tante cose cosa porteremo in più nei prossimi nel prossimo periodo all'interno del catalogo i dati che ci provengono dall'attività di manutenzione ordinaria e i dati della biblioteca volevo soltanto farvi mostrarvi alcune funzionalità ma molto rapidamente del catalogo soprattutto quella che ritengo un pochettino più interessante e cioè il passaggio da sistemi di tipo fotografico a sistemi di tipo tridimensionale questo ritengo che sia un po' come leone tredicesimo celebrava nella sua allegoria i nuovi strumenti di documentazione e quindi lì rappresentava una mattina fotografica o un daguerrotipo dell'epoca quindi ecco il prossimo step dalla fotografia si passerà agli oggetti tridimensionali e questo è molto importante per noi perché dà la possibilità di utilizzando appositi visualizzatori di prendere misure di andare nel dettaglio degli oggetti di andare a studiare in maniera più approfonditamente un oggetto dove per fare lo stesso studio prima avevamo bisogno magari di 10 20 30 foto adesso noi possiamo mettere all'interno di un unico file tutte quante queste informazioni prendere annotazioni su questa immagine effettuare misurazioni e così via io credo che questo sarà il prossimo step del nostro lavoro e qui volevo ringraziare Monica Giuliano che era nostra collaboratrice che ci ha dato una mano nell'utilizzo nell'introduzione di queste nuove tecnologie queste nuove tecnologie che poi dopo hanno portato a che cosa anche alla prima realizzazione di una mostra online e qui cedo la parola senz'altro alla collega Paola Di Giannaria che ce ne illustrerà il lavoro che è stato svolto e tutto quanto quello che ne consegue grazie Luca di questa panoramica che veramente ci fa capire come la nuova architettura digitale dei musei vaticani l'uso di collective access ma veramente l'attenzione alla tecnologia a servizio della conservazione della divulgazione è la cifra del nostro museo in questo periodo quindi ringrazio te ringrazio i tuoi collaboratori appunto Giovanni Di Giorgio che prima non ho nominato e quindi lo ringrazio anche a lui insieme a Giovanni Benini che avevo già nominato per questo coordinamento tecnico che però non è soltanto tecnico perché è un coordinamento veramente di intenti verso verso un obiettivo comune ecco la parola adesso a Palai Gio Maria che con orgoglio giustamente presenta presenta non so poi Francesca Martuscello ci presenterà la prima mossa digitale ma presenta questo importante progetto che in qualche modo riassume e rende visibile quello che Luca della Giovan Palo ci ha appena raccontato sì buonasera buonasera a tutti io devo dire oggi per me è un giorno importante perché sono qui per presentarvi un progetto che a mio parere appunto è il completamento delle attività di ordinamento e messa in sicurezza che abbiamo che siamo che abbiamo iniziato ormai dieci anni fa e che stiamo portando avanti quotidianamente in fototeca sono passati ormai undici anni da quel giugno 2010 quando venne istituita la fototeca dei musei vaticani che ha una vocazione specifica quella appunto di conoscere di conservare di curare e di valorizzare e promuovere la raccolta fotografica storica dei musei vaticani che vedete al centro proprio del nostro lavoro e ha la funzione invece appunto di catalogare di documentare di rendere agibile la ricerca lo studio di rendere fruibile ed accessibile il patrimonio nell'ottica di condivisione proprio che caratterizza i musei vaticani e da qui il passo appunto alla digitalizzazione e alla messa in rete sul catalogo online lo dicevo il progetto di digitalizzazione delle lastre di vetro completa tutte le attività che abbiamo svolto in questi anni e che portiamo avanti giorno per giorno vedete mi riferisco in particolare alla filiera operosa che abbiamo messo in atto con l'ordinamento e messa in sicurezza dei positivi e con la creazione di inventari informatizzati questo proprio al fine di rendere più fruibile e condiviso il patrimonio storico che custodiamo ecco un esempio della fototeca scusate nel 2012 nella sede precedente con l'attività iniziata ed oggi invece nella nuova sede ed è un'attività che portiamo quotidianamente avanti come ho detto qui la nostra staggista Arianna che sta Arianna Laurenti che lavora quotidianamente con noi ecco in questa filiera operosa si inserisce perfettamente il progetto di digitalizzazione delle lastre fotografiche sul vetro un processo che come vedremo comincia con l'esame delle lastre prosegue con la pulitura la messa in conservazione e la digitalizzazione e che è una filiera virtuosa che va a completarsi con la catalogazione e la messa a disposizione nel catalogo online del sito web dei musei vaticani lasciatemi dire due parole sulla collezione dei negativi sul vetro che mi piace definire il cuore della raccolta fotografica storica dei musei vaticani sono circa 49.000 lastre di vetro che includono i fondi per eccellenza dei musei vaticani con soggetti che spaziano dalle opere e dagli ambienti museali fino ai paesaggi alle architetture ai monumenti ai palazzi alle chiese agli scavi di Roma e di tante altre città italiane ed europee coprendo un arco temporale che va dalla seconda metà dell'ottocento fino agli anni 40 del novecento un pezzo di storia quindi dei nostri musei e un pezzo di storia anche del nostro paese in un certo senso d'altronde il concetto di fototeca la nostra raccolta fotografica storica è davvero una fototeca antelitteram se pensiamo che il concetto di fototeca è quello di contenitore di materiali fotografici non soltanto prodotti dal medesimo soggetto che li detiene ma da questo raccolti e conservati per motivazioni varie tra cui la ricerca e lo studio è proprio il caso dei musei vaticani che uniscono alle riproduzioni delle proprie opere che ovviamente costituiscono la maggioranza della raccolta fotografica anche una significativa quantità di materiale di confronto e di studio non riferito alle proprie collezioni raccolta che poi viene ampliata anche grazie a donazioni e lasciti sono felice il direttore l'ho appena ricordato recentissima la donazione che Barbara Iatta ha fatto alla fototeca del fondo fotografico intitolato a suo nonno Andrea Busirivici non solo noto architetto ma anche stimato storico dell'arte che nell'arco della vita ha raccolto una vera e propria fototeca con circa 100.000 unità che riguardano la storia dell'arte moderna il collezionismo e quant'altro vi dicevo nella collezione dei negativi di vetro di vetro spicca ovviamente il fondo Moscioni con le sue 15.000 lastre intitolate al fotografo Romualdo Moscioni che sono arrivate negli anni 30 nei primi anni 30 del 900 ai musei vaticani e le quali insieme alle lastre di altrettanto note dinastie di fotografi qui ne cito alcuni gli Alinari gli Anderson che sono i Broggi i Danesi i Faraglia i Felici i Sansaini contribuiscono a rendere straordinaria per ricchezza e unicità la collezione su vetro potrei raccontarvi tante storie farvi vedere tante immagini io adesso faccio una breve carrellata che parte da immagini che riguardano appunto le nostre collezioni come il Torso del Belvedere o il Trittico Stefaneschi un particolare quando ancora era conservato nella Sacrestia di San Pietro o la Galleria Chiaramonti nella seconda metà dell'Ottocento in questa bellissima lastra al Collodio Moscioni ma così potremmo andare avanti con qualche dettaglio di opere note o invece di immagini iconiche conosciute in tutto il mondo che riguardano il nostro bel paese come la Fontana di Trevi le Guglie del Duomo di Milano i Fori Romani e così potrei andare avanti oltre ma il tempo non me lo consente le lastre sono conservate nel loro luogo originario in questo grande armadio che in realtà è in un insieme di 36 armadi di legno scusate fatto costruire appositamente nel 1932 per custodire le lastre e al terzo piano della palazzina della Pinacoteca dove oggi c'è ancora dove esiste dove sono conservate le lastre e dove agli inizi degli anni 30 a partire dal 34 cominciò a lavorare Hermine Speyer l'archeologa tedesca che sostituì Deoclecio Reddick de Campos che venne chiamata dall'allora direttore Nogara per avviare la catalogazione delle lastre ecco che cos'è una lastre lo vediamo proprio qui in diretta cosa fece la Speyer la Speyer fece una cosa preziosissima perché mise le singole lastre le cominciò a mettere dentro le buste e le collocò negli armadi senza ordinarle per soggetto ma semplicemente sulla base della collocazione nel singolo armadio e infatti il numero di negativo dei musei vaticani lo vedete qui è contraddistinto da proprio da da tre numeri che indicano rispettivamente la collocazione nell'armadio nel cassetto e la posizione all'interno del cassetto questo è il numero di negativo dei musei vaticani a cui si accompagna non sempre ma anche il numero originale dato dal fotografo in questo caso il negativo Moscioni e dopodiché nel contempo la Spire si mise a redigere uno schedario cartaceo uno schedario per ogni singola lastra lo schedario che tutt'oggi esiste in fototeca che appunto vi mostro qui in cui però il fondo Moscioni non venne isolato proprio per i motivi riguardanti l'ordinamento per collocazione e non per soggetto che l'archeologa seguì questo schedario è una fonte preziosissima per gli studiosi perché i dati in esso contenuti non solo ci restituiscono i numeri negativi sia quello originale dei musei che quello del fotografo ma anche antiche attribuzioni collocazioni non più esistenti paesaggi a volte cambiati io potrei raccontarvi tante storie partire dalla storia dell'arte come questo bellissimo quadro di Madonna con bambino all'epoca nella chiesa di Santa Margherita in realtà San Simeone con l'antica attribuzione a Caravaggio invece dipinto che è stato oggi universalmente riconosciuto a Carlo Saraceni potrei raccontarvi la storia dei musei come questo allestimento del museo etrusco prima del riallestimento voluto da Nogara nel 1925 o potrei raccontarvi la storia di tanti luoghi questa è una lastra che io adoro è un negativo al collodio Moscioni appunto che ci fa vedere l'antica chiesa di Santa Maria al Priorato che è un capolavoro di Giovan Battista Piranesi con l'antica dedica alla chiesa di San Basilio della chiesa San Basilio e qui la storia sarebbe lunga perché dovremmo ritornare agli origini insomma la storia la fotografia ci può davvero raccontare un insieme di storie di storie fatta di immagini costruite da immagini e noi siamo partiti proprio da questo schedario storico già nel 2012 quando abbiamo voluto dedicare un giovedì dei musei al fondo Moscioni avevamo già cominciato a lavorare all'inventariazione informatizzata con dei semplici fogli Excel di questo schedario prima isolando il fondo Moscioni e poi estendendolo gradualmente alle altre lastre è un lavoro che lo dico subito è stato reso possibile grazie anche alla presenza di collaboratori e stagisti che si sono succeduti nel tempo che ci ha consentito di far partire quel processo di cui parlavo all'inizio cioè effettuare innanzitutto un esame della collezione poi una verifica conservativa delle lastre che sono state sempre conservate nelle loro buste originali e infine ma non per ultimo questo piccolo iniziale strumento informatico ha reso molto più semplice e diretta la fruizione del patrimonio consentendo la ricerca per soggetto e per autore con conseguente riduzione dei tempi per la presa della lastre e la consultazione e tutto questo ci tengo a dirlo rispettando l'ordinamento originale perché siamo consapevoli che rispettare l'ordinamento di un archivio fotografico significa rispettarne la storia conoscerne i criteri le finalità che poi sono mutate con l'evolversi dell'utilizzo dei materiali in esso conservati delle tendenze artistiche delle mode culturali delle tecniche fotografiche vedi per tutti la fotografia digitale aspetti che col passare del tempo si storicizzano e divengono elementi significativi dell'archivio e del materiale in esso contenuto oltre che testimonianza dell'attività di chi lo ha creato e chi lo ha costodito il processo dunque era partito e mancava di passi successivi per completare la filiera operosa di cui vi ho parlato attraverso una progressiva digitalizzazione e una catalogazione scientifica della raccolta che implicano la sua attualizzazione e nel contempo la sua storicizzazione le fotografie certamente devono essere considerate come oggetti autonomi e supporto di informazioni visive all'interno della ricerca dello studio dei dibattiti scientifici in quanto consentono contestualizzazioni che vanno oltre le discipline figurative e in questo senso la fototeca è coinvolta attivamente in tali quesiti e nella loro mediazione quando nel 2016 arrivò Barbara Iatta come vice direttore è stato possibile studiare e strutturare un progetto di digitalizzazione del patrimonio fotografico dei musei cominciando proprio dal cuore cioè dalle lastre con l'intento di proseguire il processo iniziato dalla fototeca è partito nel novembre 2016 e immediatamente ha visto il coinvolgimento e l'impegno di tante competenze professionali ha subito un rallentamento e una sospensione nel 2020 a causa purtroppo della nota pandemia ad oggi possiamo dire che sono state digitalizzate indicativamente 29.000 28.000 lastre e vengono oggi presentate per la prima volta le prime disponibili sul catalogo online del sito web dei musei vaticani ossia i primi dei 36 armadi per un totale di 5.155 lastre un numero considerevole che si prevede di aumentare gradualmente di fronte all'opportunità di digitalizzare è sorta immediatamente la necessità primaria quella conservativa che è stata messa a punto con il laboratorio restaurocarta dei musei vaticani sotto la responsabilità di Chiara Fornaciari che ha effettuato la pulitura delle lastre e la loro messa in sicurezza in buste conservative idonee successivamente per la scansione e il controllo tecnico sono stati chiamati dal direttore due collaboratori esterni Luca Giulanelli ed Emanuele Angelini le lastre sono state così scansionate ad alta risoluzione in base al formato per le più piccole la risoluzione è stata raddoppiata infine ricollocate negli armadi e i files digitali inizialmente caricati prima su un database provvisorio di passaggio al nuovo Collective Access che vi ha appena presentato Luca della Giovampaola la fototeca ha potuto così iniziare la catalogazione delle lastre attività che procede via via consentendoci una conoscenza direi minuziosa di questo eccezionale patrimonio i primi dati scaturiti da questo lavoro sono ora disponibili nel catalogo online dove sono già accessibili le schere dell'inventario generale a me il compito iniziale intanto di illustrarvi la scheda che accompagna ogni singola lastra i cui contenuti sono stati elaborati ed inseriti nel database dall'ufficio che è costantemente attivo nel controllo e nell'aggiornamento dei dati sempre in collaborazione con l'inventario generale che ringrazio e con i reparti scientifici che ringrazio che ringrazio siamo due storiche dell'arte io Francesca Martuscello un'archeologa Cristina Gennaccari e hanno collaborato via via anche stagisti e contrattisti mi piace ricordare Alessia Lobosco che ha sostituito Francesca in maternità un'altra storica dell'arte e ultimamente anche Arianna Laurenti nostra staggista ci sta aiutando la scheda è davvero il risultato di un lavoro meditato e ragionato che ha preso in considerazione sicuramente la più articolata scheda foto a cui ha fatto seguito quella fondo fotografica elaborata dall'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione ma che ha risposto principalmente alle esigenze proprie dei musei vaticani cioè quelle di condividere e rendere accessibili online le informazioni basilari relative alla singola fotografia tenendo presente anche la costituzione e lo sviluppo della raccolta in un insieme imprescindibile per la storia della fotografia nel contesto museale qui siamo proprio nella pagina iniziale dedicata alla fototeca quindi siamo già nel catalogo con la possibilità appunto di effettuare la ricerca muovendo appunto la tendina inventario o fototeca o di andare attraverso il canale esplore quindi effettuare la ricerca per collezioni per fondi per fotografi questo è il database su cui lavoriamo quotidianamente ma vorrei sorvolare e passare invece direttamente alla scheda vera e propria va sottolineato che la scheda è stata concepita in questa fase espressivamente per i negativi su vetro i quali non presentano alcune specifiche che sono tipiche dei positivi come ad esempio la presenza a volte di timbri marchi iscrizioni sul supporto cartaceo di conseguenza anche i campi sono stati per il momento predisposti secondo queste esigenze di catalogazione sostanzialmente è articolata in due sezioni la più ampia dedicata all'oggetto foto e riporta i dati della fotografia a cui viene dato in alto un breve titolo riferito al soggetto raffigurato poi la vedete si passa la segnatura che indica il numero di negativo dei musei l'appartenenza eventuale al fondo e la tipologia d'oggetto in questo caso negativo e poi si passano si passa ad esaminare tutti i dati tecnici relativi alla foto l'oggetto foto quindi la materia la tecnica le misure la didascalia originale quando presente e la scelta anche di rendere visibile la scheda storica F cioè la scheda storica dell'archivio fotografico che in sintesi riporta i dati di quel famoso schedario storico i cui le cui informazioni sono state importate dal database direttamente dall'inventario Excel di cui vi ho parlato che quindi si è rivelato uno strumento molto utile per cominciare a ragionare sui contenuti della scheda per quanto riguarda invece il soggetto ci siamo dovuti confrontare con la varietà della raccolta fotografica e per quanto riguarda le opere appartenenti alle collezioni mobili dei musei lo vediamo subito c'è la possibilità di linkare sul numero di inventario e di andare direttamente alla scheda di inventario dei musei vaticani per quanto invece riguarda i soggetti che sono extra anzi perdonatemi mi preme dire anche questa cosa ci sono alcune schede di inventario che sono in fase di revisione quindi nel rispetto del lavoro altrui abbiamo ritenuto opportuno non rendere cliccabile le informazioni di queste schede ma di rendere soltanto visibile il numero di inventario per dare una completezza di informazioni abbiamo poi dovuto affrontare il caso invece di soggetti che sono extra vaticano o di soggetti che riguardano appunto i beni immobili dello Stato che possono essere dipinti ad esempio dalla cappella Sistina fino ai beni immobili dello Stato in questo caso vedete ci sono tre campi descrizione autore e datazione che abbiamo utilizzato per dare delle informazioni basilari sul soggetto in particolare nel campo descrizione partendo dal generale cioè dalla collocazione generale fino ad arrivare al particolare oggetto vero e proprio infine nella parte più bassa la potete notare solo in parte c'è una piccola mappa che consente che abbiamo voluto mantenere che consente di localizzare il luogo del soggetto all'interno di un determinato territorio lasciatemi però adesso dire alcune specifiche sull'approccio adottato e le strategie scelte voglio dire che si è affrontato questo progetto consapevole innanzitutto di come la fotografia racchiuda in sé moltiplici aspetti di come nel corso del tempo sia stata chiamata ad assumere e a rispondere a diversi ruoli che la caratterizzano la fotografia è documento è strumento di memoria è oggetto dotato di una propria matericità e di caratteristiche tecniche espressione di una visione estetica frutto di scelte autoriali precise e in questo senso i musei vaticani si inseriscono in una tradizione antica che riconosce la fotografia come mezzo di documentazione ovvero a partire dalla funzione primaria per cui è nata ormai nel lontano 1839 facendo emergere come l'introduzione delle riproduzioni fotografiche delle opere quale strumento di studio analisi e confronto visivo abbia rappresentato una grande semplificazione ed innovazione della storiografia artistica da qui a fine ottocento da qui su questa scia infatti a fine ottocento fu concesso ai più grandi fotografi del tempo di entrare all'interno dei musei vaticani per fotografare le opere e le collezioni museali per poi inserire queste fotografie nei loro cataloghi di vendita e anche su questa scia l'acquisizione del fondo moscioni e la nascita dell'archivio storico fotografico ma con il progredire delle tecniche il rapporto della fotografia con l'opera d'arte non era più soltanto limitato alla documentazione a fini didattici ma si cominciò a cercare di capire come questo potesse essere un mezzo autonomo di espressione artistica un percorso molto lungo che è cominciato con i fotografi di fine ottocento con i circoli fotografici che è proseguito con le avanguardie artistiche del novecento fino a quando finalmente con il testo unico dei beni culturali del 1999 è stato riconosciuto il valore culturale della fotografia quindi la fotografia ad oggi è riconosciuta come valore con un valore storico artistico autonomo in conseguenza di requisiti appurati di rarità di pregio di vetustà di morte del fotografo e allo stesso tempo può essere considerata bene culturale da tutelare per il suo valore storico in quanto documento d'archivio e su questa scia l'istituzione appunto della fototeca che ha permesso di inestare nella lunga tradizione dei musei vaticani quella cultura che era propria diciamo più recente che si basa che segue tutta la riflessione storica e conservativa e documentaria sulla fotografia che è stata attuata dalle autorità competenti in materia di bene culturali in Italia in tutto l'ultimo decennio del secolo scorso e che poi è ancora portata avanti con l'avvento e il progresso delle tecnologie digitali e informatiche le funzioni della fotografia sono state molto potenziate seppure non sono poche ancora le domande legate alla gestione e alla conservazione aspetti che abbiamo subito preso in considerazione non appena intrapreso il progetto di digitalizzazione dei negativi su vetro progetto appunto voluto fortemente da Barbara Iatta che dunque congiunge la lunga tradizione dei musei vaticani con una cultura attuale affrontando sfide nuove innovative e assolutamente contemporanee in modo intelligente e costruttivo e sempre nell'ottica della condivisione che caratterizza i nostri musei vaticani molte sono le opportunità ma restano insite anche contraddizioni in primis quella di digitalizzare senza sminuire il valore culturale e autonomo che la fotografia analogica ha faticosamente conquistato prima dell'arrivo del digitale consapevoli di quanto la raccolta fotografica dei musei sia parte integrante del patrimonio museale verso la quale deve andare ogni attenzione quale testimonianza storica da tramandare abbiamo proceduto attraverso strategie finalizzate in primis alla conservazione dei valori artistici documentari e storici che caratterizzano i musei vaticani per questa ragione abbiamo deciso di inserire e rendere visibili i contenuti appunto del campo della scheda storica dell'archivio fotografico di lasciare visibile la didascalia della lastra anche il numero di negativo originale contrassegnato dal fotografo che abbiamo voluto appunto contrassegnare con una sigla qui ve ne riporto solo qualche esempio le strategie attuate inoltre ci hanno consentito e ci consentono anche di approfondire le fasi di formazione della raccolta fotografica offrendo percorsi inediti per la storia delle opere della loro fortuna critica tra fine ottocento e prima metà del novecento così come per la storia della fotografia nello stesso tempo ad esempio oltre al fondo Moscioni altri fondi sono stati costituiti e sono in fase di incremento grazie proprio al lavoro di digitalizzazione attraverso questo lavoro qui vi porto un esempio di un fondo interessantissimo che si sta costituendo che è il fondo danesi che è intitolato appunto alla ditta danesi il cui capostipite era napoletano Michele Danesi che ha realizzato all'interno dei musei vaticani una serie preziosa di lastre che riguardano le collezioni egizie ed etrusche ma come vi dicevo abbiamo potuto effettuare anche un focus sui procedimenti più usati per i negativi sul vetro in quasi un secolo di storia della fotografia a partire dal 1865 fino al 1940 quando fanno la prima comparsa le pellicole su acetato abbiamo potuto vedere i passaggi delicatissimi dal collodio alla gelatina bromuro d'argento il collodio umido era una tecnica ecco qui un esempio questa è Piazza Medina a Napoli il collodio umido era una tecnica molto raffinata molto sofisticata ma di grande di tempi molto lunghi nella realizzazione mentre con il passaggio alla gelatina pensate qui siamo ancora negli anni qui siamo già negli anni 30-40 del secolo ancora si facevano lastre sul vetro eppure le pellicone erano già comparse abbiamo potuto appunto vedere come i musei erano implicati in questi delicati passaggi perché ospitavano i fotografi più importanti del tempo e i documenti ce lo confermano questo peraltro non fa altro che ribadire come la fotografia sia anche un anello di congiunzione tra i dati d'archivio e i dati bibliografici ecco ad esempio nel registro dei permessi che la direzione dei musei accordava copisti e fotografi alla fine dell'Ottocento c'è un permesso registrato del 13 giugno a Domenico Anderson per alcune foto in Pinacoteca in cui si fa espressa richiesta che il fotografo può riprodurre i capi principali delle opere ma con l'avvertenza che debba lavorare a secco quindi abbandonando di fatto la tecnica del collodio umido e questo per ragioni evidentemente conservative per non sostare troppo a lungo negli ambienti che ospitavano le collezioni vaticani in particolare negli ambienti che custodivano le opere pittoriche in sintesi è una catalogazione che ha come fine quello di restituire i livelli di informazione presenti in archivio dunque in fototeca e relativi all'attività dell'archivio stesso ovviamente in relazione con i musei vaticani con il contenuto documentario delle immagini e con il loro valore storico al fine di restituire tutte le informazioni è apparsa infatti logica la decisione di collegare le schede fotografiche con le corrispettive schede di inventario quando si tratta delle opere mobili delle collezioni dei musei vaticani le due schede danno vita ad un database simmetrico e speculare nel quale ad ogni scheda inventario sono collegate le schede e le immagini che la documentano e per questo anche io sono grata ad Alessandro Uncini con la quale abbiamo sempre avuto un confronto molto proficuo e per la stessa ragione siamo partiti dallo schedario storico documento essenziale per la conoscenza del patrimonio i cui contenuti sono stati riportati in modo fedele ma poi ampliati e aggiornati per quanto riguarda i soggetti non presenti nell'inventario generale questo nella sezione della scheda dedicata appunto al soggetto riprodotto e dunque ormai è valorato come la catalogazione e la digitalizzazione delle fotografie costituiscono attività di documentazione dei beni culturali e valido strumento di supporto alle ricerche e allo studio in relazione all'archivio e all'istituzione che le conserva e le rende comunque consultabili fisicamente attività questa che ci ricorda sempre la complessità dei significati e la natura poliedrica della fotografia che necessita di approcci e metodi conoscitivi complessi interdisciplinari e aperti alle iterazioni di cui è prodotto e che essa a sua volta produce io dico sempre che ogni giorno in fototeca abbiamo ragione di ribadire come la fotografia sia strumento di conoscenza di lettura di riscoperta di un patrimonio fotografico vivo richiesto studiato ma nel contempo ancora da indagare pertanto con l'avvio del catalogo online delle lastre di vetro si fa un dono prezioso a tutta la comunità scientifica agli studi alla ricerca alla conoscenza permettetemi di concludere ringraziando i miei superiori il direttore Barbara Iatta che ha dato nuovo impulso con questo progetto Monsignor Paolo Nicolini vice direttore amministrativo e gestionale Roberto Romano segretario generale Guido Cornini responsabile del dipartimento delle arti i quali ci hanno sostenuto nelle varie attività a tutti coloro che ho qui nominato a tutti i colleghi degli uffici convolti in questo progetto e che non ho menzionato vorrei dire grazie per il lavoro fattivo che abbiamo svolto insieme un lavoro fatto di incontri di scambi di confronti di dubbi di riflessione ma sempre con l'obiettivo di condividere un progetto comune al servizio dei musei vaticani i musei del Papa grazie a tutti grazie grazie Paola grazie di questa carrellata anche troppo veloce nell'esposizione perché volevi però assolutamente puntuale in quella che è la vostra preziosa attività in quella che è questa sinergia che così bene tu hai voluto evidenziare anche il fatto di spiegare come appunto dalle foto storiche della vostra fototeca ci sia un collegamento con le foto dell'inventario come ha spiegato Luca della Giovan Paola con i documenti di archivio con i documenti dell'archivio del restauro per le attività di restauro che si sono svolte su quella determinata opera ma anche i dati video i dati appunto nuovi che in qualche modo riguardano quella stessa opera quindi veramente una nuova architettura digitale come l'ha definita giustamente Luca della Giovan Paola che si completa con i dati appunto realizzati e con l'intervento di Chiara Fornaciari da Passano che ci racconta cosa è stato fatto su queste lastre e cosa ci ha permesso appunto attraverso la loro attività di condividere di poterle digitalizzare e quindi poi di condividerle Allora innanzitutto anch'io inizio con i ringraziamenti grazie a voi che siete qui grazie a chi ci sta seguendo online cosa non sempre facile insomma di questi tempi e ringrazio naturalmente la direzione Monsignor Nicolini e chiaramente Paola Di Gianmaria e tutti i suoi collaboratori nel 2016 il laboratorio di restauro opere su carta è stato coinvolto nel progetto appunto di conservazione di messa in sicurezza delle lastre della fototeca e come ho avuto occasione di illustrare anche in altri incontri la particolarità delle collezioni vaticane è rappresentata dalla grande varietà di supporti e anche dalle diverse tecniche artistiche impiegate nella loro realizzazione i musei infatti conservano nell'ambito dei singoli reparti delle singole sezioni delle opere su carta di differenti epoche storiche che presentano problematiche conservative differenti tra loro oserei dire molto differenti tra loro ma questo è insieme la sfida che noi affrontiamo ogni giorno e forse anche masochisticamente qualche volta un divertimento ad affrontare cose molto diverse e qualche volta delle sfide anche insomma molto difficili il laboratorio di restauro opere su carta che è stato istituito nel 1994 si occupa appunto di conservare e di restaurare tale materiale mi preme sottolineare siamo in tre attualmente più una nostra stagista che è qui in sala oggi sono io la sottoscritta Flavia Serena di Lapigio e Cristina de Medici dunque il fondo fotografico rientra quindi tra i settori che ci vedono coinvolti anche se e mi preme sottolinearlo questo chi si occupa di materiale fotografico ha una formazione specifica e una specializzazione ad hoc le nuove generazioni sono molto fortunate perché nel percorso di studio è stato previsto sono stati previsti questi supporti è stato previsto di studiare la conservazione e il restauro delle fotografie e anche dei supporti digitali e capita è capitato diciamo meglio in passato che i restauratori della carta in qualche modo delle opere su carta abbiano trattato con una certa leggerezza diciamo questo materiale tale materiale convinti di avere la formazione giusta per potersene occupare e sempre tornando un po' indietro un po' quell'atteggiamento che avevano molti anni fa i colleghi di pitture nei confronti dei supporti cartacei dipinti che erano convinti di poter affrontare tutto questo l'ho detto perché siamo stati sin dall'inizio consapevoli della mole di lavoro da affrontare della delicatezza dell'intervento e per questo abbiamo chiesto proprio all'inizio del progetto di poter seguire un corso di aggiornamento che fosse però pensato proprio sulle nostre esigenze per non andare a coprire così tutta l'abbiamo visto l'enorme vastità di questo mondo ma proprio un progetto che riguardasse il nostro la nostra collezione il corso è stato strutturato e tenuto dalla dottoressa Lorenza Fensi una dei massimi esperti del settore e la dottoressa Fensi è venuta abbiamo lavorato insieme ci siamo confrontati con la fototeca e ci ha messo proprio in grado di conoscere meglio il materiale della nostra collezione e soprattutto abbiamo insieme pensato come intervenire affrontare il lavoro in sicurezza ed in tranquillità il primo materiale che abbiamo affrontato è stato un corpus di cento fotografie principalmente delle albumine da pulire da spianare da mettere diciamo appunto da riplanare in qualche modo per poi essere conservate in materiale ad hoc per la conservazione poi siamo passati ad affrontare appunto a campione le lastre sul vetro per poter organizzare proprio passatemi questo termine una vera e propria catena lavorativa in qualche modo una gestione del lavoro in gruppo che per cui ogni passaggio ne prevedeva un altro il materiale abbiamo sentito sono circa 49.000 lastre conservate in cassettiere come abbiamo visto di legno scusate che metto qualche immagine così possiamo vedere qualche modo che cosa abbiamo fatto appunto in armadi e in cassetti e ogni lastre era conservata in una busta di carta craft quella carta da pacchi o mille righe non so come vogliamo chiamarla che veniva spesso usato per conservare questo materiale questo materiale è stato le lastre erano state sicuramente consultate in passato però non erano mai stati oggetto di conservazione e di messa in sicurezza il progetto di scansionamento e il catalogo e la creazione del catalogo della fototeca è stata proprio l'occasione per affrontare il lavoro questi lavori è inutile che lo dica io lo sappiamo tutti sono anche un utilissimo processo di conoscenza perché la conservazione serve proprio a questo anche a capire che cosa si ha in casa e a capire qual è lo stato di conservazione dei fondi che cos'è la messa in sicurezza sono tutte quelle operazioni che consentono di manipolare le opere congelando in qualche modo anche i casi di conservazione meno felice meno perfetta e per poter poi manipolare l'opera in qualche modo può intervenire in un secondo momento con un progetto di restauro più definitivo quindi il settore scientifico ha indicato i cassetti e gli armadi da cui iniziare da cui prelevare le lastre sono state innumerate le singole buste nuove in materiale per la conservazione ricordo che questo materiale deve avere una certificazione la cosiddetta certificazione PAT cioè Photography Activity Test quindi sono dei materiali che hanno proprio sono testati per la conservazione di questo materiale e poi soprattutto sulle nuove buste in appunto in materiale per la conservazione sono state riportate tutte le annotazioni qualsiasi annotazione anche quella che a noi sembrava così più inutile per passare per fare in modo che tutte le annotazioni non andassero perdute sono state puliti a fondo i cassetti e gli armadi ogni lastra è stata controllata il lato emulsione è stato pulito con un panno morbido mentre il lato vetro è stato pulito con una soluzione idroalcolica distribuita con della carta morbida e poi asciugata con un panno morbido anch'esso ogni lastra è stata collocata in una nuova busta il cassetto pulito e riempito è stato subito passato diciamo al settore della scannerizzazione e le lastre danneggiate sono state segnalate abbiamo trovato spesso delle lastre rotte oppure in qualche modo scheggiate no 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 scusate si ho detto spesso ho detto male mi corrego sono state anche trovate delle lastre scheggiate o rotte però ci teniamo a dire che anche lì abbiamo messo subito abbiamo fatto sempre su indicazione della dottoressa Fensi delle specie di suturazione di piccole suture con nastro adesivo per la conservazione in maniera che fossero manipolabili è stato messo qualche volta un cartoncino per poter essere sicuri di non appunto di non far progredire i danni naturalmente è apparso subito evidente che vista la mole di lavoro abbiamo avuto anche dei momenti di sconforto il laboratorio per far sì che non si fermasse la normale attività che vi assicuro è tanta per consentire soprattutto che arrivasse una quantità costante di lavoro a chi scannerizzava che si occupava della scannerizzazione ha avuto bisogno di aiuto è stato individuato il signor Fabio Di Loreto da noi seguito e coordinato che si è rivelata la persona giusta proprio per aiutarci e colgo l'occasione per ringraziarlo non è presente stasera ma veramente lo voglio ringraziare di cuore non solo perché ha fatto un lavoro eccelso ma perché con grande umiltà professionalità in perfetta sintonia con noi si è messo diciamo a nostra disposizione e ringrazio anche può sembrare una banalità però Andrea Di Giorgi e Antonio Nigrelli che si sono occupati di piegare le buste di prepararci le buste in maniera che questa catena di montaggio lavorativa non si fermasse mai ad oggi sono state scansionate pulite e scansionate 28.000 lastre ci siamo fermati per questa pandemia ci auguriamo che il lavoro di scannerizzazione possa riprendere perché ci piace terminare un lavoro e non lasciarlo a metà e tutti ci auguriamo che appunto questo avvenga presto anche potrebbe essere un segno che siamo fuori dal tunnel e naturalmente il laboratorio continuerà a dare la sua opera in perfetta sintonia in sinergia con la fototeca e con tutti quanti quindi grazie di cuore a tutti grazie a Chiara Fornaciari da Passano due o tre note troppo modesta Chiara nel senso che sicuramente la tua formazione di restauratrice di opere d'arte su carta da patologia del libro a tanta esperienza quasi sarebbe stato superfluo una formazione specifica con la dottoressa Fensi ma non c'è dubbio che è questa anche l'attenzione che si mette in queste nostre attività quindi di voler sempre andare avanti e migliorarsi e non c'è dubbio che che è importante tra l'altro voglio indicare il sito www.museivaticani.va è importante di controllare appunto le immagini che ha fatto vedere Chiara dell'attività di restauro sono nel nostro sito ma così come è chiaramente il nostro sito per tutto quello che è stato detto fino adesso e soprattutto esorto Chiara Fornaciari e il suo gruppo a riprendere il lavoro compatibilmente con questo periodo così complesso dove sicuramente abbiamo dovuto ridisegnare le nostre attività in base a tempistiche e situazioni diverse però è sicuramente appunto sono contenta che tu l'abbia indicato cioè il fatto che a tutti noi ci piace portare a termine un progetto intrapreso e oggi è anche un giorno un po' speciale lo ha accennato Luca della Giovan Paola perché lanciamo con l'occasione di questo Giovedì De Musee è la prima mostra digitale del nostro sito e invito subito Francesca Martuscello a raccontarci a raccontarci come si è esplicata e chiaramente dedicata a Raffaello per una così ironia di di celebrazione che è stata un po' funestata il famoso anno sanzio del 2020 è stato molto funestato una mossa che doveva essere anche reale fisica diciamo non solo virtuale nei nostri musei nella nostra sala 17 si è convertita per appunto ragioni di pandemia ed altro in una mossa digitale e quindi comunque consultabile lo dirà anche Francesca ma lo ripeto anche io nel nostro sito www.museivaticani.va a te la parola Francesca grazie sono grata ai miei superiori per avermi dato la possibilità oggi di illustrarvi questo lavoro e sono anche lieta di esporlo a voi parto anch'io da lontano perché in realtà questo progetto inizia diverso tempo fa e ringrazio la direttrice che aveva accolto positivamente la proposta arrivata dalla fototeca di organizzare una mostra fotografica su Raffaello nel cinquecentenario della sua morte e Monsignor Paolo Nicolini il vice direttore gestionale amministrativo di questi musei che aveva dato il suo ok per la realizzazione appunto di questa mostra in sala 17 della Pinacoteca che si sarebbe dovuta tenere dal 28 maggio al 27 settembre del 2020 nell'anno Sancio appunto e Paola Di Gianmaria che mi ha dato la possibilità di condividere con lei l'organizzazione di questa mostra poi però è arrivata una pandemia mondiale quindi ora siamo qui a parlare di altro per cui all'inizio di questo 2021 abbiamo ripreso in mano le fila del progetto e appunto sebbene la sua materiale realizzazione non è stata possibile e per via di una programmazione poi successiva già stabilita nuove esigenze anti-covid abbiamo pensato che sarebbe valsa la pena non disperdere non sacrificare il lavoro fatto ma sfruttando appunto la piattaforma presentata da Luca il nuovo catalogo la presentazione del nuovo catalogo fatta ora da Paola Di Gianmaria anche inserirci con questa mostra l'idea era quella di presentare al pubblico non è la stessa cosa assolutamente presentare il materiale fotografico quindi far conoscere questo patrimonio poterlo rendere visibile non può essere fatto dal vivo ma si può ottemperare diciamo questa volontà attraverso il sito visto che mi trovo il cursore ecco visto che il sito dei musei è visitato anche da più persone rispetto a quelle che materialmente vengono qui per cui pensiamo di arrivare a molti e far conoscere appunto questo patrimonio siamo nel sito sto scorrendo si accede tramite il catalogo a queste gallerie di foto questo è dal cellulare quindi a portata di tutti c'è un testo di presentazione e una galleria di immagini eccole qui si parte da questa galleria e con un semplice clic sulla foto si entra direttamente nel catalogo una scheda descrittiva spiega l'immagine scelta e con un ulteriore clic sulla scheda fotografica questo ve l'ha fatto vedere Paola si entra nel dettaglio del catalogo fototeca per cui con tutte le specifiche e le informazioni della fotografia ho scelto ho scelto questa prima immagine di Renato Sanzaini perché dimostravi questa prima foto che è una stampa alla gelatina di sali d'argento con dettaglio del Parnaso a pollo e le muse perché condensa un po' in sé quanto vi ho raccontato fino ad ora quando nel settembre del 2018 ho iniziato a lavorare in fototeca il primo fondo che mi è stato assegnato da riordinare è stato proprio il fondo avvenimenti in cui confluisce la partizione denominata mostre ovvero il materiale di documentazione di studio o il materiale necessario a strutturare il catalogo della suddetta mostra e mi sono occupata di riordinare e catalogare il consistente materiale fotografico che è stato utilizzato per la grande mostra Raffaello in Vaticano che si è tenuta al braccio di Carlo Magno nel 1984 proprio il cinquecentenario della nascita del pittore Urbinate quindi un filo continuo che si dipana questo delle celebrazioni l'idea è nata un po' da qui quasi per caso di celebrare Raffaello attraverso la fotografia storica ed è poi arrivato fino al progetto che oggi si inaugura la grammole di materiale presente in fototeca e i permessi di accesso concessi alla direzione tra il 1860 e il 1954 attestano proprio come nella fase pioneristica della fotografia da almeno tutto il terzo decennio del novecento le opere vaticane di Raffaello siano state al centro dell'interesse di artisti copisti e fotografi e Raffaello è stato il primo artista ad essere fotografato in Vaticano perché nel 1860 iniziano le prime concessioni i fotografi erano interessati più che altro alla statuaria alle opere classiche il primo pittore su cui invece rivolgono il loro interesse è Raffaello prima ancora di Michelangelo il primo in assoluto a fotografarlo è stato Pietro Dovizielli ma dopo di lui arriveranno tutti i fotografi noti che già Paola vi ha presentato i fratelli Alinari i fratelli Giacomo e Domenico Anderson Giacomo Broggi Michele Danesi Giuseppe Felici Romualdo Muscioni e i Sanzaini che hanno segnato il definitivo successo della nuova disciplina come mezzo di riproduzione e documentazione e diffusione il percorso virtuale della mostra si dipana tra 68 tra stampe e negativi dedicati al divin pittore urbinate e non poteva partire dalle stanze prescelte da Giulio II come suo appartamento tanto iconiche da essere appellate proprio col suo nome ma più in generale una prima sezione è dedicata alle grandi cicli pittorici di Raffaello in Vaticano ed una seconda sezione alle opere mobili di Raffaello tra spostamenti ed allestimenti le stampe fotografiche vogliono essere anche significative della situazione degli ambienti nelle stanze qui siamo al 1894 e forniscono dettagli curiosi sugli arredi dell'epoca come questi divani che vediamo presenti nella stanza della segnatura ma anche nella stanza di Elio d'Oro o come la fotografia ci testimonia allestimenti non più presenti come questo mosaico policromo romano che era collocato nella stanza dell'incendio di Borgo poi successivamente spostato la fotografia si dimostra quindi uno strumento prezioso di documentazione e memoria inconfutabile di realtà e contesti di cui si sono perse le tracce le stampe fotografiche esposte vogliono essere anche semplificative dell'evoluzione stessa del mezzo fotografico e delle tecniche messe a punto per consentire una visione delle opere sempre più raffinata e con una tale capacità di finitura da consacrarsi presto come strumento di raffigurazione per eccellenza il colore che da sempre è stato tallone d'Achille della fotografia è stato oggetto di molteplici sperimentazioni a fine ottocento le prime soluzioni adottate sono state quelle di colorare a mano le stampe fotografiche nel 1883 il primo permesso per fotografare le stanze di Raffaello è concesso a Domenico Anderson figlio dell'inglese Giacomo naturalizzato italiano uno dei pionieri della fotografia e fondatore della storica ditta che ne porta il nome Domenico Anderson offriva la possibilità di acquistare tutte le opere presenti sul suo catalogo pubblicato nel 1899 anche al carbone e colorate a mano le cosiddette foto acquerelle il cui pregio e valore le rendevano di grande interesse non solo per gli studiosi ma anche per amatori e collezionisti la fotografia quindi va oltre la sua funzione e diviene opera d'arte a sé stante vi mostro questa bellissima fotografia del battesimo di Costantino della ditta Anderson appunto una stampa la gelatina a colori così bella insomma anche perché il supporto utilizzato è una carta baritata una carta fotografica speciale ideale per le fotografie d'arte in quanto consente di creare dei sorprendenti contrasti dalle stampe colorate a mano di fine ottocento si passa alle prime placche autocrome lastre di vetro in grado di produrre diapositive a colori brevettate da fratelli Lumière nel 1903 questa è l'autocromia della disputa di Luigi Pellerano che possiamo a ragione ritenere uno dei pionieri in questo procedimento l'autocromia introdotta sul mercato nel 1907 rivoluzionò il campo della fotografia e ben presto divenne popolare nonostante il costo e la complessità del procedimento nell'epoca del digitale non possiamo immaginare come fossero prodotte vi dico semplicemente si trattava di un procedimento basato sulla sintesi additiva spaziale e i colori erano ottenuti grazie a un mosaico di piccolissimi filtri costituiti da granelli di fecola di patate colorati che venivano stesi su un supporto di vetro in modo che non si sovrapponessero ma giusto apposti gli interstizi venivano riempiti con nero fumo veniva poi stesa su questi granelli di fecola un'emozione fotografica in bianco e nero e appunto si riusciva ad ottenere questo la fototeca dei musei vaticani conserva questo cofanetto con autocromie di Pellerano si tratta di un cofanetto 10-15 molto prezioso rivestito in seta marrone insomma con la scritta e all'interno la targhetta bianca con il nome del fotografo ma con piacere vi mostro anche quest'altra autocromia che non è nel percorso della mostra però è nota già pubblicata da Paola Di Gianmaria nel volume del 2020 Sistine e Cenacolo rinvenuta in una seconda scatola di Luigi Pellerano che abbiamo la fortuna di conservare presso la nostra fototeca in cui c'è anche un'etichetta col marchio dell'esposizione internazionale dell'industria e del lavoro svoltasi a Torino nel 1911 con il conferimento con la dicitura del conferimento di un diploma d'onore ricevuto dall'autore si tratta aveva ricevuto il diploma d'onore e la medaglia d'oro della Casa Lumiere per la fotografia a colori quindi il fatto che la fototeca dei nostri musei conservi questi materiali è un valore aggiunto Pellerano è stato anche un ha scritto anche un manuale sulle autocromie di ben 554 pagine in cui entusiasticamente esprimeva i vantaggi della fotografia a colori anche se poi ho trovato un editoriale del bollettino della società fotografica italiana che lo smonta un pochino in cui dice per ora io penso all'opposto dell'autore che un buon pennello rifarà sempre con maggior verità sulla tela quello che la fecola colorata non è sempre capace di fissare sulla lastra alla metà degli anni 30 queste autocromie saranno sostituite poi dalle coda crom ritornando al discorso dell'evoluzione delle tecniche molto diffuse erano le stampe all'albume dette albumine appunto per via del particolare procedimento che prevedeva che il foglio prima di essere esposto alla luce galleggiasse in una soluzione a base di albume brillanti e riconoscibili dal loro tipico ingiallimento tendente a volte al blu non rossastro derivante dal viraggio al loro a cui erano sottoposte erano molto richieste in tutti i formati e ovviamente Raffello la fa da padrone ve ne mostro diverse questa è la disputa sì la fotografia riusciva anche ad ottenere inquadrature allargate senza però rinunciare a dettagli minimi un particolare della scuola di Atene siamo tra gli anni 1878 1891 dalla fine degli anni 70 dell'800 poi la stampa la gelatina brumuro d'argento porta ad un ulteriore miglioramento qualitativo della fotografia poiché accorciando i tempi di esposizione alla luce i soggetti venivano fissati in tempi molto più rapidi da quel momento in poi il successo della fotografia sarà in continua crescita e di Domenico Anderson abbiamo già parlato a proposito delle foto a carelle qui si vede come emergano la precisione e la nitidezza nella resa dei dettagli in questo particolare dell'incendio questa è un'ulteriore tecnica ritornando al discorso delle tecniche una tecnica molto sofisticata privilegiata nella riproduzione di opere d'arte pittoriche per il mantenimento più stabile dei valori tonali ed era la stampa al carbone come in questa scuola d'Atene del catalogo Broggi già pubblicata nel 1912 probabilmente precedente e la famiglia Broggi fondata da Giacomo passata poi al figlio Carlo raggiunge livelli di elevata qualità nella restituzione cromatica qui un particolare molto bello dell'incendio passando all'altro avremmo volentieri esposto in mostra questa pubblicazione accuratamente restaurata per l'occasione dal laboratorio restauro carta le stanze di Raffaello parte prima stanza della segnatura voluta da Benedetto XV per il quarto centenario della morte di Raffaello quindi le celebrazioni che tornano è fatta realizzare e pubblicare nel 1921 dalla ditta di fotografi danesi nel percorso digitale della mostra abbiamo inserito la copertina e due tavole ma qui volentieri vi mostro le pagine di introduzione di Bartolomeo Nogara direttore dei musei e la prefazione in cui è spiegata l'importanza del volume che riproduce la stanza in tutti i particolari sia nelle grandi composizioni che nei fregge e nelle decorazioni le tavole sono eseguite in fototipia da negative fatte espressamente senza alcun ritocco in modo da poter conservare inalterata la bellezza della forma e la tecnica della pittura con un'esattezza e fedeltà mai vedute e mai studiate in particolare di così grande formato grazie ai permessi è possibile collocare l'esecuzione degli scatti nel luglio del 1919 le fotografie necessarie alla pubblicazione vennero effettuate da Remo Danesi figliastro di Cesare a sua volta uno dei due figli del fotografo napoletano Michele Danesi capostipite della ditta omonima esperta nella riproduzione di opere d'arte che successivamente si converte anche a casa editrice quindi questo volume aveva avuto successo chiudo questa sezione dei cicli pittorici murali di Raffaello con due grandi albumine della Alinari che illustrano una parte della volta delle logge di Raffaello un cantiere ultimato nel 1519 diretto da Raffaello come un grande regista in cui coordina e fornisce il progetto iconografico i disegni e coordina i giovani della sua bottega delle 52 scene che compongono quella che Paoluzzi ha definito la Bibbia di Raffaello si è scelto questi due particolari le storie di Isacco nella quinta campata e le storie di Cristo della tredicesima sono attribuite alla ditta Linari e Cook con studio romano in via del Corso che è documentata nelle logge la prima volta nel 1878 poi nel 1881 e nel 1888 per cui questo è l'arco temporale di queste fotografie passiamo ora alla seconda sezione della mostra i dipinti mobili di Raffaello in Vaticano tra spostamenti e allestimenti la raccolta dei dipinti è tra le più giovani collezioni che costituiscono oggi i musei vaticani fu organizzata come sezione autonoma nel 1790 per volere di più sesso e comprendeva una piccola quadreria che si estendeva inizialmente lungo le gallerie superiori con Pio VII dopo la parentesi napoleonica sappiamo che faranno il loro ingresso in Vaticano numerose opere che prima non lo erano e diventeranno identitarie della nuova binacoteca tra cui le tre pale di Raffaello e la predella della Palabaglioni nel 1817 Vincenzo Camuccini cura l'allestimento della quadreria nell'appartamento Borgia viene nuovamente spostata e oggetto di continui spostamenti nella prima metà dell'Ottocento nel 1821 finisce in terza loggia e nel 1829 di nuovo lungo le gallerie superiori qui lo vediamo raffigurato in questa incisione nota di Giacinto Fontana pubblicata nel volume di Pistolesi del 1829 del Vaticano descritto e illustrato che però vi mostro perché di fatto l'uso del mezzo fotografico in questi anni quindi sul fine già dalla metà dell'Ottocento ma intorno al 1880 si intreccia molto con l'incisione fino a diventarne il completamento e poi il superamento nella seconda metà dell'Ottocento la quadreria passa poi nel 1833 nell'appartamento di San Pio V successivamente al Paslazzo Apostolico di San Giovanni in Laterano e dal 1857 compiono nuovamente nelle sale dell'appartamento di Gregorio XIII al terzo piano delle logge le prime riproduzioni fotografiche di questa quadreria risalgono però agli anni fine anni Ottanta e qui vediamo l'allestimento della trasfigurazione della Madonna di Foligno nella terza sala ovvero la sala Bologna ben identificabile dalla carta di Bologna di Lorenzo Sabatini sullo sfondo esposta insieme alla comunione di San Girolamo le opere appaiono protette da balaustre di legno e affiancate dai cavalletti che dovevano servire ai cupisti per appunto replicare le opere più note il range per la datazione di questa grande albumina Linari era fissato tra il 1885 anno in cui la parete di sinistra era stata dipinta di scuro e il 1908 quando poi la raccolta finirà in altri ambienti ma possiamo restringerlo ancora grazie ai famosi permessi dei fotografi agli anni tra il 1891 e il 1896 nel gran salone o sala grande della Pinacoteca corrispondente nella guida della tipografia Salbiucci del 1857 alla sala quarta si riconoscono tra l'altro la pala Oddi la Madonna di Monteluce l'incoronazione della Vergine di Pitunturicchio la resurrezione di Perugino la pala dei Decembiri il trittico rospigliosi esposti di taglio probabilmente con le cornici incernierate a parete la presenza del trittico rospigliosi ci dà il termine per la datazione di questa immagine perché era stato donato a Leone XIII per il suo giubileo sacerdotale del 1888 che è quindi il termine post-quem in quest'albumina Linari la pala Oddi verosamente era stata commissionata nel 1503 da Alessandra di Bracciobaglioni per la cappella della chiesa di San Francesco a Prato a Perugia e non è tornata sul suo altare dopo le requisizioni napoleoniche ed apre la sequenza di opere nella vita del Vasari di Raffaello la predela della pala Oddi insieme alla predela della pala Baglioni così esposta quindi con le virtù sovrapposte una sull'altra e la fotografia ci testimonia questo erano esposte nella sala 2 di quella pinacoteca di Pio IX riservata ai piccoli formati della trasfigurazione di Raffaello abbiamo scelto questa bellissima lastra Moscioni una lastra databile al 1884 quando il fotografo ottiene il primo permesso per fotografare le opere mobili di Raffaello ed è già disponibile nel suo catalogo di vendita del 1885 siamo nel passaggio decisivo dal collodio alla gelatina di cui ha parlato Paola di Gianmaria ma il livello qualitativo di riproduzione e narrazione dell'opera raggiunta da questo fotografo è veramente altissimo mi dispiace perché in un'esposizione dal vivo l'avremmo presentata esposta retroilluminata per cui si poteva veramente godere però devo dire che rende benissimo anche la sua scansione una stampa Moscioni sempre ante 1885 della Madonna di Foligno l'opera dipinta tra il 1511 e il 1513 a funzione di ex voto la fotografia purtroppo colpevole l'assenza del colore non rende giustizia quanto più decantato dalla critica in quest'opera quindi bagliori di luce il colore la gamma cromatica vicina ai ferraresi dosso-dossi la pittura tonale veneta però senz'altro emerge dalla fotografia la naturalezza che è l'equilibrio raggiunto da Raffaello tra narrazione e visione tra celestiale e terreno in un incrocio di luci differenti per origine e intonazione l'angioletto al centro della stessa opera in quest'album in Alinari tanto per mostrare come uno dei soggetti più replicati dell'urbinate su cui si sono cimentati tutti i fotografi fin qui nominati tanto da farlo diventare quadro nel quadro e concludiamo questa carrellata di fotografie con il trasferimento e trasporto della trasfigurazione di Raffaello dalla Pinacoteca di Pio IX alla Pinacoteca di Pio X siamo al 1908 in una lettera che comunica la morte di Lovico Saitz direttore artistico delle gallerie delle pitture dei Sacri Palazzi Apostolici avvenuta all'11 settembre del 1908 viene anche ricordato che il giorno precedente il pittore aveva voluto essere presente quando la trasfigurazione di Raffaello veniva calata con il tiro fino al pian terreno per cui dotiamo la foto al 10 settembre del 1908 la cassa che viene spostata attraverso il cortile del Belvedere passando per il Grottone attraverso la piazza del Forno in Vaticano fino ad arrivare ai nuovi locali destinati da Pio X a Quadreria negli ambienti posti al piano terreno del corridoio di Pio IV sotto la biblioteca vaticana con un ingresso indipendente dai musei sull'attuale viale dei giardini già via delle fondamenta adibiti fino ad allora magazzino della floreria rimessa delle carrozze questi ambienti erano stati scelti per la facilità di accesso piuttosto che arrivare al terzo piano insomma degli appartamenti e furono ristrutturati e riorganizzati sotto la direzione dell'architetto Snyder queste foto sono di Giuseppe Felici potrei parlare molto di lui ma credo che queste informazioni le trovate sul catalogo online della mostra sul sito dei musei l'allestimento della nuova pinacoteca fu affidato a Ludovico Seitz prima e poi a Pietro Dachiardi il numero delle opere esposte salì vertiginosamente insomma sempre più rispetto all'allestimento precedente perché vi si aggiunsero le opere provenienti dal museo cristiano dai sacri palazzi e dalla pinacoteca lateranense questa stampa in cui si vede la parete della seconda sala vuole essere anche un omaggio alle monumentali figure di San Pietro e San Paolo ora esposti in sala 17 affidate l'esecuzione affidata a Fra Bartolomeo ma senz'altro terminate soprattutto il San Pietro da Raffaello sulla stessa parete c'è il San Girolamo di Leonardo la pala del Moretto e il ritratto di Gentiluomo di Antonio Moro dunque la fotografia anche come strumento di conoscenza di un allestimento non più e testimonianza di un allestimento non più esistente qui vediamo l'allestimento della quarta sala interamente dedicata a Raffaello con la trasfigurazione la Madonna di Monteluce la pala dei Decembiri e la pala Oddi con la predella raffigurante i misteri posta sotto di essa grazie ai permessi datiamo questa fotografia al 1909 anche se è pubblicata nel catalogo Broggi del 1912 questa è la stessa sala vista da una diversa angolazione sono visibili ancora la pala Oddi la predella della pala Baglioni con i tre pannelli raffiguranti le virtù sempre posti uno sull'altro come unico dipinto incernerata al muro e la Madonna di Foligno tra le finestre doveva esserci il San Girolamo in trono di Giovanni Santi uno zoom sull'incoronazione della Vergine la pala Oddi in un allestimento appunto non più esistente e nel 1932 nuove stampe fotografiche testimoniano il trasferimento della trasfigurazione dalla Pinacoteca di Pio X che verrà chiusa il 2 gennaio alla Pinacoteca di Pio XI che dove troverà definitiva collocazione la quadriria pontifice verrà inaugurata il 28 ottobre dello stesso anno nella mostra nel percorso di mostra sono presenti dieci stampe fotografiche che documentano la movimentazione dell'opera cinque hanno sul retro il timbro di Giuseppe Felici le altre si possono attribuire al fotografo milanese Arturo Faccioli due parole su Faccioli le dico velocemente perché era stato il fotografo incaricato alla fine degli anni 20 dalla nostra direzione di valutare la qualità e lo stato di conservazione di alcune lastre moccioni proprio in vista dell'acquisizione di questo fondo da parte della direzione dei musei e successivamente rimase impiegato ai musei per fare le stampe di queste lastre quindi rimane a lavorare ai musei fino agli anni 40 e adibisce due stanze nel cortile della Pegna a gabinetto fotografico quindi siamo alle origini della struttura museale così proprio come negli anni di massimo fervore in cui i musei si configurano come per quello che sono ancora oggi la prima di queste immagini sul retro a matita la data del 23 luglio del 1932 la trasfigurazione si vede nella cassa non ancora chiusa qui nella cassa chiusa che lascia la pinacoteca è interessante anche il metodo attestato dalle immagini di trasporto di una cassa di dimensioni e peso così grandi quindi su tavole di legno poste a regolarizzare il terreno e su tubi metallici pieni non cavi in modo che il peso non li schiacciasse diciamo e però alcune opere uscivano anche a cavallo questa l'ho messa a titolo esemplificativo è la insisto quarto nomine il platina prefetto della biblioteca vaticana che trattandosi di un dipinto morale staccato era senz'altro di peso notevole e ve l'ho messa anche perché esemplificativa perché queste foto sono già schedate e catalogate all'interno del nostro catalogo della fototeca per cui facendo una ricerca con questi termini si arriva anche a queste immagini sempre la trasfigurazione che esce dallo stradone al passaggio nel giardino quadrato appunto le fotografie sono testimonianza del fermento di quegli anni in cui l'attività progettuale ed edilizia di 11esimo e febbrile e realtà appunto ben documentata dai lavori in corso ho aggiunto qualche immagine in più rispetto alle 10 appunto presenti nella mostra per farvi vedere la grande cupola di San Pietro che campeggia sullo sfondo non c'è ancora il padiglione delle carrozze perché i lavori per la sua costruzione inizieranno a partire dal 1963 e la palazzina della Pinacoteca era stata eretta in una parte del giardino quadrato isolata e circondata completamente da viali e collegata attraverso un loggiato a quello che sarà il nuovo monumentale accesso da viale vaticano prima si accedeva ai musei dal cortile di San Damaso e c'era questo doppio accesso la trio dei quattro cancelli era l'ingresso ai musei di scultura qui questa foto è anche testimonianza dello status ante 1964 quando poi tutti gli edifici che i servizi tecnici del governatorato erigerano sul progetto degli studi degli architetti passarelli come moderna addizione alla palazzina Beltrami appunto non erano presenti la cassa che gira sotto il portico dell'oggiato per entrare dal fronte nord al piano terra della palazzina che era destinata ad aria espositiva al piano terra trovavano posto i laboratori di restauro il gabinetto ricerche scientifiche i depositi ma c'era anche il montacarichi che consentiva l'accesso poi al piano nobile costruito ad hoc in modo da contenere il quadro più grande della collezione all'epoca la comunione di San Girolamo del Domenichino qui la cassa esce dalla sala 6 ancora la fotografia casualmente documentazione anche perché si vede il retro di quell'opera lì appoggiata che è una Madonna col bambino tra i Santi Giovanni Battista Girolamo Lorenzo e Domenico di Mariano di Sarausterio con la sua traversatura originale non è più così perché è stata trasformata poi dai restauro nel corso del novecento la trasfigurazione che finalmente arriva in sala 8 dove sarà sballata e grazie all'ausilio di un ponteggio allestito appositamente sollevato all'interno della cornice che si trovava già installato sul posto questa sezione si conclude con 5 stampe fotografico con l'allestimento della sala 8 a titolo esemplificativo metto questa con le opere di Raffaello già inserite nelle cornici rinnovate rispetto a quelle dorate utilizzate in precedenza queste in legno scuro che includevano le predelle e per finire una bella veduta della sala 8 in cui trovano spazio anche gli arazzi di Raffaello su cui ci sono un paio di immagini nel catalogo destinate a tornare la cappella Sistina con le storie degli apostoli e niente al centro il pavimento in marmi e policromi col motto quam raptim sublimia che rappresenta bene la carriera veloce ed eccelsa di Raffaello non posso che ringraziare tutti dell'attenzione e augurarvi buona visita virtuale grazie Francesca siamo andati un po' lungo i suoi tempi e quindi mi scuso con i nostri con chi ci sta seguendo diciamo in via virtuale però era assolutamente necessario la partenza con il Parnaso e le Muse di Raffaello quindi le arti così glorificate credo che sia molto importante anche il discorso di concentrarsi su Raffaello come la prima mostra virtuale del nostro appunto portale o architettura digitale delle nostre collezioni credo che sia molto importante perché appunto da sempre Francesca ma anche Paolo l'hanno detto si veniva in Vaticano per l'antichità greco-romana ma soprattutto per Raffaello Sanzio quindi si veniva dai gran turista del 5 del 6 del 700 e poi con i fotografi dell'800 che l'abbiamo visto prediligevano Raffaello quindi non potevamo che partire da Raffaello io ringrazio tutti ricordando e ringraziando Alinari e anche l'archivio Felici l'archivio Lenari e l'archivio Felici per il supporto che ci hanno dato per questa nostra mostra digitale ma soprattutto voglio ringraziare i relatori che con me hanno presentato questo importante progetto Luca della Giovan Paola Pala di Giovan Maria Chiara Pronaciari di Passano Francesca Martuscello ma soprattutto tutti gli altri reparti convolti appunto dalla direzione in via più generale Monsignor Nicolini Roberto Romano Guido Cornini che è stato già ricordato ma anche gli uffici stampa l'ufficio web multimedia l'ufficio anche eventi e tanti tanti altri uffici che collaborano appunto a questa sinergia che siamo noi Musei Vaticani grazie